Il Comitato Feste Patronali Lucera 2018 rende noto che per i festeggiamenti in onore di Santa Maria Patrona dal 22 aprile al 19 luglio è stata raggiunta la somma di 35.134 euro. Siamo molto felici della risposta che finora i cittadini e le imprese del territorio hanno dato al nostro invito a contribuire alle feste patronali, ha dichiarato Mario Di Gennaro, presidente del Comitato Feste Patronali Lucera 2018. Sono gli ultimi giorni di preparazione, possiamo già da adesso annunciare che durante i primissimi giorni di agosto verrà pubblicato il programma completo dei solenni festeggiamenti. È un programma come da tradizione con qualche piccola novità a sicura di Gennaro. Come si partecipa alle offerte? Direttamente presso la sede del Comitato Feste Patronali Lucera 2018 in piazza Duomo 15, sala Giorgio Lapira, tramite conto corrente bancario intestato a Comitato Feste Patronali di Lucera o tramite conto corrente postale intestato a Diocesi Lucera Troia Ufficio Cancelleria Causale Profeste Patronali.